gentili telespettatori buona giornata secondo alcune indiscrezioni rocco crimi detto vito dagli amici potrebbe diffondere l'email del comico genovese beppe grillo di cosa stiamo parlando c'è un'email del capo dei cinque stelle che è beppe grillo che vito crimi il capo politico appena dimesso potrebbe rendere presto pubblica che questa email inviterebbe a spostare il voto per la elezione dei cinque membri del direttorio del movimento 5 stelle un ordine che potrebbe far esplodere del tutto i pentastellati dopo le decine di espulsioni il partito del dovrà necessariamente rifondarsi e leggere la nuova leadership a 5 definire rapporti al momento pessimi con la piattaforma rossò di davide casaleggio e soprattutto ecco il retroscena di repubblica dovranno dare un posto un ruolo all'ex presidente del consiglio il tanto amato giuseppe conte e quindi vogliono spostare le elezioni di quei cinque membri perché vorrebbero cambiare lo statuto in modo da far diventare l'idea è questa cinque membri cinque membri con sopra giuseppe conte ricordate il governo giuseppe 2 il governo conte 2 rifare la stessa cosa in piccolo nei 5 stelle dove l'ex presidente del consiglio diventa una sorta di presidente del consiglio dei 5 stelle dove il consiglio sono quei cinque membri come se fossero dei piccoli ministri crescono ecco diventerebbe conte il piccolo presidente del consiglio dei 5 stelle con i cinque piccoli ministri chiamati consiglieri dove inizialmente si pensava che questi cinque consiglieri poi avessero un portavoce alla tagliani no un portavoce che non è un decisore non prende delle decisioni ma ma comunica alla politica i giornali eccetera eccetera le decisioni dei cinque quindi non ha potere decisionale in questo caso la modifica di questo porterebbe a far diventare conte con la modifica di questo statuto far diventare conte un vero e proprio capo politico che prende decisioni in base ai consigli e riunendosi con questi cinque quindi non farebbe più conte i dpcm ma si riunirebbe in nottata quando vuole come faceva prima con queste cinque persone per prendere delle decisioni di partito questo riporta anche una parte di quello che vi dico io il retroscena di repubblica luigi di maio dice spero che il movimento 5 stelle possa accogliere conte il prima possibile ma luigi di maio avrebbe preferito un conte con un suo partito in modo che lui di maio potesse andare con conte e non avere più il problema della vincolo del secondo mandato perché voi sapete che la maggioranza dei grillini con la fine di questo governo sono disoccupati a casa non più rieleggibili poi la pensione la potranno prendere dai 65 anni in poi perché voi sapete che per avere la pensione in politica ci vogliono 4 anni 6 mesi e un giorno quindi tutti i grillini probabilmente sono pensionati ma senza soldi perché arriveranno al compimento dei 65 anni quindi capite che sono persone che hanno meno di 40 anni vuol dire che devono per altri 25 30 anni aspettare la pensione non è proprio semplice aspettare la pensione per 30 anni insomma e quindi luigi di maio non preferisce conte capo politico dei 5 stelle ma lo preferiva come conte con un suo partito in modo che lui poteva andare con il venerante con il suo venerato conte così però luigi di maio fa finta e dice che il 5 stelle possa accogliere possono accogliere conte il prima possibile ma non si sa quando e quale ruolo ecco perché conte sta aspettando di arrivare al momento giusto quindi il direttorio si farà ma non subito ma il reggente quel vito crimi quel rocco crimi detto vito dagli amici in realtà avrebbe già finito con i suoi compiti dovrebbe in questo momento cioè diciamo che non avrebbe più la possibilità di decidere perché sarebbe decaduto il suo ruolo perché doveva cominciare questo direttorio ma viene sospeso a tempo indeterminato comincerà sì ma non subito e poi bisogna chiarire il rapporto con casaleggio con la sua piattaforma beh poi c'è grillo che sostiene la candidatura della raggi si è ben guardato mentre sosteneva raggi di parlare del voto sulla piattaforma a suo favore richiesto dalla stessa sindaca poco tempo prima quindi grillo probabilmente si prepara allo scontro con casaleggio e quindi non nomina più non nomina più quella simpatica pappa piattaforma ma intanto i grillini si contendono un posto nel direttorio intanto si sta aspettando che questa mail di grillo venga diffusa l'area diciamo vicina al dibba potrebbe puntare su antonella laricchia già candidata presidente per la regione puglia una che a crimi non le ha mai mandate a dire vi ricordate che dalla puglia gliene diceva ma cosa state facendo ecco quindi diciamo è una donna più alla dibattista no che alla vito crimi è così paola taverna che non è affatto contenta dell'appoggio al governo draghi potrebbe candidarsi così come danilo toninelli anche lui perplesso della scelta del nuovo esecutivo e poi c'è dino giarruso che ha ufficializzato la sua candidatura ci sta pensando anche il vicepresidente del parlamento europeo fabio massimo cataldo e il consigliere regionale lombardo dario violi il regolamento vuole che il capo delegazione di 5 stelle non può candidarsi nel direttorio è per questo che probabilmente di maio non sarebbe interessato è interessato invece barbara lezzi che appena stata espulsa e che annuncia battaglie legali ma dite a barbara lezzi che non può fare battaglie legali i partiti possono espellere i loro senatori senza preavviso e senza motivazione diteglielo fateglielo capire che ci sono delle leggi e le battaglie legali in questo senso non vanno da nessuna parte beh vedremo se modificheranno lo statuto e se tornerà conte e se veramente questo partito andrà a risollevarsi con l'arrivo di conte no dicevano con conte il movimento sarà una roba da 30 per cento sarà veramente così potrebbe avere comunque un incremento il movimento 5 stelle per le persone che seguono conte non il movimento 5 stelle ma seguono conte no gli affezionati gli innamorati di giuseppe conte io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata arrivederci a tutti